è stato il primo film fatto a miami con la regia di barboni a mio personale giudizio uno dei film più divertenti che hanno fatto assieme a terence hill perché ognuno dei film fatto con terence ha una sua peculiarità e una sua particolarità ma io ritengo che levati i panni del west i due super piedi quasi piatti abbia delle gag delle battute delle situazioni assolutamente ripetibili e divertentissimi che forse in altri film come comicità e divertimento non sono stati superati in altri film loro quindi a miami è stata poi invece la location di tante altre produzioni alcune delle quali anche realizzate da me con le serie di extra large con altri con pari e dispari con chi trova un amico trova un tesoro tutti i film che poi sono stati ambientati a miami sia perché miami era davvero spettacolare sia per motivi climatici perché quando qui c'era l'inverno lì era un periodo sempre perfetto per girare e poi perché ancora era molto semplice non c'erano ancora particolari problematiche legate alle union ai sindacati degli attori e quindi era una specie di miniera d'oro per ambientazioni possibilità di riprese e ne approfittarono molto e poi evidentemente sia terence sia mio padre si trovavano molto bene a miami perché quel film fu diciamo la prima esperienza che poi è stata ripetuta tante volte anche lì bloccare la città fare inseguimenti l'aneddoto che papà ricordava sempre era quando c'è la famosa sequenza in cui loro guidano l'automobile della polizia quella che poi sfondano le due portiere con quella divertente situazione che loro allora era stata data dalla produzione l'automobile della polizia e avevano una vera automobile della polizia con la radio che trasmetteva e a un certo punto loro ascoltando i messaggi si resero conto che la polizia vera stava dicendo che c'erano degli impostori in giro mascherati da poliziotti e su un'automobile della polizia in incognito e si resero conto a poco a poco che erano in grave pericolo e poi andarono a protestare con la produzione che si era dimenticata di comunicare che stavano facendo un film e nonostante avessero affittato questa automobile polizia le uniformi e quant'altro praticamente erano dei clandestini che giravano mascherati da poliziotti e quella fu una situazione abbastanza complicata per i due attori perché poi erano praticamente lasciati un po a se stessi dopo l'organizzazione dei film è stata più accurata e più coordinata con con le autorità locali ma insomma in quella prima esperienza ci fu qualche momento di dramma potenziale